Buonasera a tutti! Oggi vi presento un pane tritto... I miei collaboratori sono... Valeria! Grazie! Io sono un collaboratore scritto, sono Roberta. Mi presento una speciale poste! Sono sempre io, Irene Cazzarella, che a cucinaggio e in fantasia vuole capire come si fa questo pane tritto. E poi c'è la nostra... La nostra bellissima! Con la barbilla! Bellissima! Yeah! Roby, ma qual è il nostro ingrediente principale? Il pane duro! Lo vedete? Ed è importante perché questa ricetta ci insegna che non si deve buttare... Ma è nulla! Poi abbiamo... Rosalino cos'è questo? Marina! Ok! Vale la latte! Rosalino? Uova! Perfetto! Uova! Uovo! L'ha detto bene! E questo? Sale! E poi questo? Zucchero! Perfetto! Perché sale e zucchero? Dillo tu Marisa che sei la maestra! Perché la versante, la variante del pane... Tutto a questa, che sia la ricerca esatta! E non solo! Vero Roby? Come può essere? Può essere anche... O con il uomo o con il uomo! E noi Marisa presentiamo tutti! Seguiteci! Adesso prendiamo l'uovo! Adesso prendiamo l'uovo! Guarda che ci vuole mangiare quando lo vuole fare cadere! Che devi fare! E qualcuno... Sparta l'uovo! Forza! Chi lo sparta? Mentre l'altro... Prendiamo il latte! Dai! Prendiamo il latte! Qualcuno vestiva il latte! Forza! Mentre questo lo faccio io! Vai! 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 Avvicinate il piatto! Che versiamo il latte! Forza! Pericoloso! Tagliamo il pane duro! Quanto? A quanto ancora? A mezzo! Mettiamolo tutto! 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 Facciamo un po' di peste di pane! Perfetto! Buonissimo! Bravo Rosalino! Un partito! Vedete Robetta? Sta sbattendo il nostro uomo! Forza Roby! Vi faccio vedere come lo sbatti! Ci vuole maestria eh! Guardate! La mano si deve muovere per sbattere l'uovo! Esatto! Facciamo un po' la ciotola! Vero Vale? Sì! Vero Vale! Paisa che facciamo ora? Bagliamo il pane nell'accia! Sì! Ah! Bellissimo! Lo sgoccioliamo! Sì! Lo passiamo nel uomo! Sì! E poi? Lo sgoccioliamo così! E lo mettiamo pronto nel piatto! Perfetto! Pronto! Fatelo voglio adesso! Roby forza! Ma scusa Roby! Se uno non mangia il latte ne vuole che fa! L'acqua! L'acqua! Perfetto! E adesso ragazzi cosa facciamo tutti Anna? Buona! Buona! Secondo olio ci vuole secondo me? Non ce ne vuole! Un po' ci vuole! Un dito diciamo! Però siccome noi usiamo olio d'oliva il nostro buonissimo olio! Che potremmo trovare ovviamente su sidani shop.com Non preoccupate non fa tanto male! Quindi abbondatelo! No abbondatelo! Giusto è giusto! Un dito! Aspetta che dobbiamo accendere! Dobbiamo aspettare che si riscalda l'olio! Giusto! I pistacchi e la fai alla fai! I pistacchi e le giusto! Che puro Che cucchi e la fai giusto? So on C'est piacchi e la fai giusto! È così! Denn Che cucchi procedura Che cucchi? Siamo pronti per condire il nostro pane fritto con le due varianti Prima con l'azucca E non lo facciamo? Ancora, ancora, ancora Sale non troppo Questo l'abbiamo fatto per il vino con il zucchero e con il sale Ropi, quale assaggio? Io sono di lei, non mi fanno di sale E tu Ale? Di sale E tu Rosalino, noi lo zucca Andiamo E io vi assaggio tutti e due Vuoi essere al posto nostro, vero? Che buono Che buono E' buonissimo Cogliamo l'occasione E scusate se ho il boccone pieno Per dirvi che Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Vi lascerò un like, un commento E condividere il video E in descrizione trovate tutti i prodotti acquistabili sul nostro sito E il nostro sito è www.sipanissons.it www.sipanissons.it Arrivederci alla prossima puntata di tutela www.sipanissons.it 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 www.sipanissons.it